Federigo Tozzi, Gli Egoisti, Capitolo 1 Appena ad esto, Dario Gavinai sentì che ricominciava istantaneamente a pensare. Il suo pensiero era come una punta che sporgeva facendosi innanzi da sé. Ma egli ne provava una specie di rammarico e di stupefazione. Erano ormai parecchi mesi che la miseria cercava di entrare nella sua anima. Dapprima non ci aveva creduto. E proprio quando non aveva nemmeno un pezzo di pane per mangiare, le cose più dolci e più buone della sua giovinezza gli stavano per ore ed ore fisse in mente e gli era impossibile rendersi conto d'altro. Quanto più soffriva e indeboliva e tanto più quelle cose gli apparivano evidenti e sereni, visibili come allucinazioni. secchi di latte che gli pareva di bevere, un latte denso con una panna quasi gialla oppure tavolate di pane caldo e crocchiolante levato allora dal forno. A trent'anni era ancora costretto a farsi mantenere da una sua zia di pistoia che, quantunque più povera che ricca, faceva per lui tutto il possibile. E Dario credeva di essersi avvantaggiato a lasciare quella città, che era anche la sua, per andare a Roma, dove sperava di trovare più di una via aperta alla fiducia della sua intelligenza. Nessuno aveva pensato sul serio quando studiava la musica che volesse dedicarvisi con uno scopo decisivo e ambizioso ed egli voleva provare che a Roma sarebbe riescito a farsi noto. Dopo le prime esaltazioni aveva sentito un'apatia quasi cinica. Poi aveva preso le cose con più calma, ma con più sofferenza. Conosceva ormai quasi tutti i letterati e gli artisti migliori e li aveva avvicinati con desiderio e con fiducia in se stesso, sebbene chiunque di loro lo avrebbe dichiarato il più modesto e il più insignificante. Aveva dovuto imparare a non credere alle promesse di qualche amico che avrebbe potuto aiutarlo davvero. E, sebbene questa diffidenza non gli riescisse naturale, si era giurato di non procurarsi più maggiori delusioni. Non aveva voluto conoscere nessun musicista perché si vergognava a non aver fatto ancora nulla e temeva di essere accolto con quel sorrisetto che gli metteva la voglia di pigliare a pugni. Anzi, quando gliene indicavano qualcuno arrossiva e cercava di allontanarsi subito. Dopo due anni che si trovava a Roma, si sentiva assillato a dare un saggio della sua intelligenza. Era inutile cercare la Roma degli imperatori o dei pontefici e quella della monarchia democratica era troppo insignificante e antipatica. Sognava Roma forte e intelligente, rinnovata da tutte le regioni d'Italia. Se fosse stato un uomo pratico avrebbe potuto subito trovare una ricompensa. ma tutto consisteva in una psicologia che cominciava e finiva dentro lui stesso. Non partecipava mai alla vera vita e sarebbe invecchiato come tanti altri giovani senza uscire dalle angustie di un'impotenza egoista e immorale. Stanco come se non fosse stato invece più di 14 ore a letto. Non aveva né forza né voglia di alzarsi ma dovette vestirsi perché voleva andare a trovare un suo amico impiegato al ministero della pubblica istruzione. Non sapeva fare niente. Non aveva imparato a fare niente. E l'idea di doversi scegliere magari un mestiere gli faceva venire una ripugnanza che lo spaventava. Non poteva di meno pensarci. Era come se gli dicessero che a una data ora gli sarebbe venuta una malattia orrenda che lo avrebbe ridotto irriconoscibile. Tuttavia vestendosi si sentiva quasi allegro o perlomeno ne aveva la voglia. Non si reggeva più in piedi e gli girava un poco la testa ma si fece animo e finì di vestirsi in pochi minuti. Prima di muoversi verso l'uscio però guardò il letto e fu quasi spinto a buttarci si sopra steso. A quel modo forse avrebbe potuto riassopirsi e sognacchiare con quella specie di febbrilità e di sovraeccitazione a cui aveva preso gusto. Era già vicino a mezzogiorno e nella camera faceva molto caldo. I vetri parevano per doventare come una colla trasparente e il sole ficcarsi dentro le cose. In piazza della pigna non c'era nessuno ed egli si fermò parendogli che il sole e le ombre non volessero farlo passare. Ma ormai a certe illusioni c'era avvezzo. Scosse la testa e proseguì. Anche il ministero sembrava deserto. salì inciampando parecchie volte. Al primo piano in una specie di corridoio che serve da stanza d'aspetto per quelli che vogliono passare negli uffici del ministro la porta ricoperta di stoffa verde era spalancata perché entrasse di più il fresco e i busti di marmo lungo una parete sopra le loro colonnine fino in fondo pareva che si guardassero come se fossero costretti a vivere per forza e un usciere piccolo come se non avesse avuto il capo dormiva seduto sopra una sedia appoggiato al tavolino accanto. Al secondo piano stava il suo amico Nello Giacchi. Qui i corridoi erano stati annaffiati forse la mattina ma pareva che i mattoni si sfacessero lo stesso in polvere e alcuni si smuovevano sotto i piedi. Quasi tutti gli usci degli impiegati erano socchiusi e Dario suppose che dietro ognuno di quelli stesse chi lo avrebbe aiutato portandolo via lontano con sé in qualche luogo dove non era più possibile patire la fame. Quasi perciò gli pareva inutile giungere fino alla stanza del Giacchi ma vi giunse con una contentezza che al solito lo esaltava affascinandolo quasi era lui che andava a portare all'amico la dolcezza e la serenità della sua anima. Nello Giacchi non lavorava si era tolta la giubba e si grattava con le unghie i capelli folti divisi dalla scriminatura da una parte. Gli disse guarda quanta forfora mi cade lo vedo mettiti a sedere Dario non voleva per non cedere alla snervatezza ma appena seduto in una poltroncina che una volta chissà quanti anni prima era stata rossa e ora quel colore era rimasto soltanto dove erano le cuciture dei bottoni si sentì un poco meglio. Il Giacchi aveva continuato a grattarsi i capelli guardandosi a un pezzo di specchio appoggiato al calamaio. Dario stette zitto poi disse sorridendo un'altra volta bisogna che tu mi presti dieci lire o che tu mi inviti a mangiare. Il Giacchi smise di grattarsi pulendosi le punte delle dita con i pollici e gli rispose verrei a mangiare con me perché non ho più soldi finché non riscuoterò lo stipendio a trattoria pago sempre in fine di mese. Si rimise la giubba e chiuse il pezzo di specchio dentro un cassettaccio nettò sopra il tavolino con il fazzoletto e soffiò tra un mucchio di carte. Disse a mezza voce quanto avrei da fare e non ho voglia. Dario lo guardò non sapendo nemmeno quel che pensare. Il Giacchi era piuttosto magro e pallido aveva gli occhi color caffè e parlando torceva un po' con la bocca sempre dalla stessa parte come se lo facesse volentieri e per vezzo. Allora il Gavinai gli chiese vuoi sapere quant'è che non vedo Albertina? Il Giacchi non rispose nulla ma l'altro proseguì l'ho vista ieri sera. Poi dopo essere stato zitto un poco abbassando la testa aggiunse ci vogliamo sempre bene. Allora il Giacchi rispose mi sembra perfino inverosimile e perché? C'è bisogno che te lo spieghi io? Non ti capisco quando si vuol bene davvero io mi stanco subito lo stesso e perché non vuoi bene davvero? Il Giacchi ridacchiò quantunque cercasse di trattenersi il Gavinai cercò di farsi dare ragione anch'io credevo di essere come te ma poi perché dovrei lasciare Albertina? mi vuole tanto bene tu lo sai ma ora a parlare del suo sentimento gli pareva una sciocchezza o forse era addirittura una sciocchezza il suo sentimento stesso tuttavia siccome il Giacchi stava zitto come per lasciargli confessare troppo anche quello che non si dovrebbe mai dire teme di aver fatto male si sentì questa sua sincerità negli occhi e gli sembrò che la fame e la sincerità fossero quasi la stessa cosa e che tutte e due fossero così visibili che egli si alzò dalla poltrona quasi per seguirle e accarezzarle poi perché il Giacchi non lo prendesse per pazzo finse di essersi alzato per levare una piega dalla giubba ma il Giacchi gli disse io non ti credo e perché? perché non è vero questo modo di ragionare tolse al Gavinai la voglia di aprire bocca e siccome il Giacchi si mise a spolverarsi la giubba egli involontariamente anzi senza riuscire a impedirselo pensò vorrei sapere in che cosa consiste la realtà provava un imbarazzo forte come un malessere gli pareva chi avrebbe incontrato chissà quale difficoltà ad uscire dalla porta e gli veniva il ticchio di farne la prova gli pareva che l'aria fosse quasi irrespirabile e pensò se avesse potuto mangiare il tavolino il Giacchi gli vedeva sul viso quel pallore che lo faceva doventare subito più magro gli venivano le occhiaie e i suoi occhi scintillavano con una eccitazione nervosa quella nervosità lo urtava e doveva evitare di sentirla gli disse usciamo prima che sia allora così andiamo a mangiare ma ho perso l'appetito non mi sento più bene è necessario che io faccia una cura ricostituente bisognerebbe che io mi facessi mandare in aspettativa ma al Gavinai era impossibile stare attento a quel che l'amico diceva e si mosse perché facesse più presto il Giacchi allora fu tentato di metterci più tempo ma non ebbe il coraggio prese il cappello e i giornali che aveva dimenticato sul tavolino e disse possiamo andare allora il Gavinai si fermò e disse arrossendo a mangiare con te verrò un altro giorno per oggi posso farne a meno il Giacchi capì che si era offeso lo prese per un braccio e lo fece camminare devi venire oggi il Gavinai avvistosi del cambiamento si sentì pieno di gioia e gli chiese quasi lacrimando ma se tu volevi stare solo t'ho detto a quel modo di Albertina perché anch'io sarei contento di trovare una donna come lei di trovare un'altra donna di trovare un'altra donna di trovare un'altra donna